il vuoto direi che se non fa posso mettersi un pochino? per ora proprio poco si riesce può essere lì ha malapena star su eh vabbè ma quanto è salito? 5 metri? eh eh vabbè qui l'altra volta io ero su per 100 metri e la tua con la vela? no, di Renato lui ne ha tre e ne cerca un'altra? si la più leggera? più nuova ma non l'avevo preso lo sprint e poi lo sprint e poi lo sprint vedi che è già salito un po' di più di su metà prima prima ma Grazie a tutti. 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 A Robes niente di nuovo. Eccolo, eccolo. Dov'è? Ah, eccolo là che spunta. E' quella la base? Eh, ha recuperato qualcosa. Chi sa? Oh, ma la più pianta ne ha più lo stimato. Non è che pensano che di facciare le fotografie? Bravo, ma stai attaccato però! Allora rimanco io. Allora rimanco io. Aspetta, aspetta perché se la giri dalla parte sbagliata... è finita. E' finita. E' finita. E' andato?